Grazie a tutti, buon pomeriggio, benvenuti. Mi chiamo Antonio Rusconi, lavoro per RTA e RTA Robotics dal 2004, sono un field application engineer e vorrei con questa presentazione proporvi e spiegarvi i punti di forza e di differenza della soluzione RTA Robotics. Partiamo subito con i players di questa partita, RTA nasce nel 1976 come produttore di sistemi per motori passo passo, si evolve durante questi anni e aumenta il portafoglio prodotti. Il portafoglio prodotti ad oggi conta servomotori, motori lineari, motori torque, motion controller, planetary gearbox, tutte richieste che ci sono state fatte dal campo e che ci permettono di fornire una soluzione completa. Una soluzione completa, al quale mancava fino alla fine del 2021, inizi del 2022, una soluzione robotica. Nasce uno spin off di RTA, si chiama RTA Robotics e è una start up che si basa, che attinge i propri prodotti da due importanti players. Il primo è la Fruit Core Robotics, brand tedesco dedicato ai robot antropomorfisi Yassi e Trio Motion Technology, un brand riconosciuto a livello internazionale per la fornitura e la formazione di sistemi di robot SCARA. Vediamo la proposta RTA Robotics, abbiamo ancora 4 in questa slide, 5 tra breve taglie di robot SCARA che coprono un range dai 400 ai 700 mm con payload variabile e si arriva fino a 6 kg e 4 gradi di libertà. Gli antropomorfi della Fruit Core sono sei assi, movimentati con robot, con motori passo passo saniodenchi di cui RTA è distributore unico in Italia. I coprono un range da 548 a oltre 1400 mm con payload variabili e si arriva fino a 12 kg di payload. In questa slide vediamo i primi 4 SCARA della famiglia Trio, il più piccolino che raggiunge un'estensione di 400 mm e un payload di 1 kg e payload massimo di 3 kg. Per poi passare alla linea 500, 600 e 700 mm in cui non aumenta soltanto il punto d'arrivo, cioè lo sbraccio, ma aumenta anche il payload. A breve ci sarà l'introduzione del modello 800 che incrementerà ulteriormente sia le prestazioni che il payload. Vediamo rapidamente le velocità anche dal piccolino in avanti, il 400 mm raggiunge i 6 metri al secondo come velocità complessiva, gli altri 3 superano abbondantemente e arrivano a 7.4 metri al secondo con payload variabile da 2 kg a 5 kg. La soluzione, la configurazione che RTA Robotics propone, qual è? Il robot SCARA, governato dal motion controller Trio, un kit di azionamenti, un set di cavi. Il cuore di tutto è il motion controller Trio, cosa permette il motion controller Trio? Non soltanto la gestione del robot SCARA e qui mi aggancio anche alla presentazione precedente, dove con un unico motion controller possiamo controllare l'intera linea produttiva, l'intera macchina di packaging, l'intera applicazione. Chi si rivolge a RTA e RTA Robotics avrà da noi il supporto completo per la gestione dalla A alla Z con la scrittura del software per la linea produttiva. Quindi un'integrazione verticale completa. Guardiamo gli antropomorfi Horst della linea Fruitcore. Abbiamo tre modelli che si differenziano dal payload e dai punti dallo sbraccio raggiungibile. A breve ce ne sarà un quarto, perché Fruitcore, anch'essa start-up nata nel 2016, è sempre in continua espansione e in continua evoluzione. Più precisamente il primo, il più piccolino, può spostare un carico nominale di 2 kg per un'estensione fino a poco più di 500 mm. È un robot articolato 6 assi, all'interno dei quali vi è la presenza di motori passo passo al posto di motori servo. Questo che cosa permette? Permette sicuramente una gestione migliore del carico inerziale, quindi si riduce la necessità di avere planetari gearbox e tutti i motori ovviamente utilizzano encoder in retroazione e utilizzando motori passo passo abbiamo coppie maggiori a basse velocità. L'intermedio che è l'Orst 900, l'Orst 900 raggiunge appunto poco più di 900 mm di raggio con un payload nominale di 3 kg. L'ultimo è il 1.400, dove il carico nominale è 8 kg e il carico massimo è 12 kg. Il carico massimo sia per lo scara che per l'antropomorfo può essere utilizzato ma chiaramente dipende dal duty cycle del robot, del ciclo di lavoro. La configurazione del sistema, la proposta RTA e RTA Robotics per Fruitcore si compone del prodotto inteso come robot, un pannello operatore con il quale si programma facilmente la movimentazione della robot oppure in maniera più complessa con una piccola licenza aggiuntiva vengono sbloccate diverse funzionalità e si può accedere a un linguaggio di programmazione più diretto, un linguaggio di programmazione strutturato per raggiungere la maggiore efficienza, le maggiori performance del robot. L'Horse Control Cabinet, che è appunto il cuore pulsante dove all'interno vi sono i drive che muovono gli assi, i giunti del robot e questo si può interfacciare con il mondo esterno mediante I.O. e mediante Modbus, TCP o altri protocolli standard. Accessori. Gli accessori presenti per gli ORST sono diversi, ne abbiamo selezionati alcuni. le basi, per esempio, che possono tornare utile quando il robot non lavora sempre nella stessa posizione, quando il robot non rimane collegato sempre sullo stesso punto della linea ma può essere spostato. Uno di questi è un robot completo, penso la I-900, è fisso in pianta stabile con l'Università di Pavia dove abbiamo un rapporto di collaborazione e cooperazione per sviluppare insieme a RTA Robotics nuove applicazioni. Punto cruciale della proposta sono i gripper i gripper, cioè gli end effector sappiamo tutti che ogni applicazione l'end effector dovrebbe essere studiato per quell'applicazione e così è. Tuttavia almeno per una prima analisi sia per gli SCARA che per i robot antropomorfi ORST abbiamo selezionato almeno quattro tool per la manipolazione questi sicuramente non saranno ottimizzati per l'applicazione tuttavia possono essere utili in fase di test in fase di prove con il cliente per vedere quanto siamo distanti o quanto stiamo raggiungendo il target dell'applicazione stessa. Riassumendo RTA Robotics spin off di una società con oltre 40 anni RTA di esperienza nel campo dell'automazione industriale propone la sua linea di prodotti propone la sua linea di prodotti come robot antropomorfi e robot SCARA si propone come solution partner abbiamo diverse applicazioni in essere nel pellame con i robot SCARA dove abbiamo proprio sostituito un antropomorfo nella manipolazione di prodotti del packaging per gli antropomorfi chi si rivolge a RTA Robotics verrà seguito completamente dal motion alla scrittura del software al motion controller al planetary gearbox e anche se necessario alla fornitura di robot SCARA penso di aver terminato il tempo a disposizione vi aspetto per ulteriori domande e approfondimenti nel padiglione 13 penso sia proprio questo allo stand B50 grazie grazie